Assicurare nuove elezioni non è bastato. Morales si ritira a Cochabamba dove cominciò la sua ascesa politica, ma adesso pare inseguito da un mandato di cattura emesso non è chiaro da chi. C'è chi parla di un colpo di Stato, in particolare i governi di Cuba e del Venezuela, il che sembra indicare che dietro gli eventi ci sia l'appoggio dell'ambasciata americana. Alcuni alti gradi dell'esercito avrebbero suggerito a Morales di dimettersi. Jeremy Corbyn si è pronunciato contro il robesciamento. Papa Francesco ha chiesto che il processo di revisione venga fatto in pace e serenità. La Presidente del Senato Adriana Salvatierra si è dimessa, come anche il Vice Presidente Alvaro Garcia. Dopo 14 anni di potere Morales lascia nella confusione e tra le accuse di averne fatto un uso personale del suo potere, specie negli ultimi tempi, e di aver voluto restare al comando anche quando la sua popolarità era ormai in serio declino. L'Organizzazione degli Stati Americani, nota per essere sotto il controllo degli Stati Uniti, ha rifiutato di certificare la validità delle ultime elezioni. Un gruppo di manifestanti ha preso l'assalto dell'ambasciata venezuelana alla Paz con candelotti di dinamite e infine l'ambasciata è stata occupata. Manifestazioni popolari inneggiano alla fine del regime, mentre non si segnalano manifestazioni a sostegno di Morales. Certo è invece che Morales non ha lasciato il Paese e non è fuggito in Argentina come era stato diffuso da alcune agenzie di informazione, il che potrebbe voler dire che il suo non è un ritiro dalla politica ma un rifugio temporaneo in attesa di una rivincita. Dopo aver scontato 19 mesi di carcere, illegittimo perché in attesa di giudizio definitivo, l'ex presidente del Brasile è stato liberato l'8 novembre. Appena fuori, Lula è stato accolto da un grande bagno di folla, di fronte al quale ha denunciato la corruzione del sistema giudiziario del suo Paese. Adesso, ha detto, hanno applicato la Costituzione e mi hanno liberato, ma hanno aperto nuove indagini sui miei sostenitori. Hanno cercato di uccidere un'idea, ma le dei non muoiono. Lula si è detto disposto a guidare l'opposizione e ha criticato il presidente Bolsonaro. L'ex Lustra Scarpe, diventato uno dei presidenti più popolari del Brasile, intende continuare la battaglia contro l'ex magistrato Sergio Mora, responsabile del suo arresto e ora, per questo, diventato ministro. L'indagine che ha portato all'arresto di Lula e alla sua carcerazione è stata contestata da molte parti, anche internazionali. La Corte di Cassazione brasiliano ha rifiutato di riesaminare la sentenza, ma Lula ha ancora il diritto di aspettare la risposta della Corte federale di giustizia, che, in caso di accettazione del ricorso, gli consentirebbe di candidarsi di nuovo e di tornare in politica. Il presidente Bolsonaro, ora in carica, ha colto con sarcasmo le dichiarazioni di Lula. Secondo i sondaggi, se il centrodestra si presentasse unito, ad oggi arriverebbe a toccare il 50% e, secondo alcuni, addirittura sfonderebbe quella quota. A tirare la coalizione sarebbe Salvini, con un 33%, poi Lameloni con quasi il 10% e Forza Italia sarebbe la terza forza con il 7% dei voti. Se a questi uniamo anche le liste minori collegate, come quella di Toti, allora quota 50% verrebbe superata di uno 0,6%. L'alleanza di governo, Movimento 5 Stelle, PD, Leo e Italia Viva tocca il minimo storico del 43,1%. Le difficoltà maggiori le stanno incontrando i pentastellati, che adesso sarebbero intorno al 17%. Insomma, un vero e proprio crollo dei consensi. Venderlo non si può, Trump Dixit, ma se ne può trovare molto altro. Il presidente iraniano Rouhanini annuncia la scoperta di un enorme nuovo giacimento di petrolio, estensione 200 chilometri, profondità 80 metri, vicino al confine iracheno. Il nuovo giacimento aumenterebbe di un terzo delle riserve iraniane che sono state stimate in 155,6 miliardi di barili di greggio. Stima del colosso energetico BP. L'Iran è la quarta riserva del mondo per il petrolio e la seconda per il gas. Allo stesso tempo, l'ambasciatore iraniano a Londra, Hamid Baydan Jed, dichiara di considerare la possibilità dell'uscita dal trattato di non proliferazione nucleare. Gli Stati Uniti si sono ritirati da quel trattato l'8 maggio 2018 ed hanno imposto le sanzioni alle banche iraniane e all'industria petrolifera. Un anno dopo, l'Iran ha annunciato di voler ridurre gradualmente gli impegni assunti con la firma del trattato, a meno che gli altri paesi firmatari non trovino una soluzione. L'Europa sta in mezzo. Tensioni tra Giordania ed Israele. All'inizio di novembre due cittadini giordani sono stati arrestati in Israele. Le tensioni diplomatiche sono esplose tra Giordania e Israele nel 25esimo anniversario dell'Accordo di Pace. L'ambasciatore Gassam Hal Majali è stato richiamato in patria e il ministro degli estri, Haiman Safadi, ha annunciato che questo è solo un primo passo. La ragione della crisi è la detenzione di due cittadini giordani, inumana e illegale, di cui la Giordania ritiene Israele interamente responsabile. I rapporti fra i due paesi si sono incrinati un anno fa, quando il re Abdullah II, sotto la pressione di tumulti, aveva annunciato la fine dell'allocazione di due appezzamenti di terreno, Naharim e Zofar, coltivati negli ultimi 25 anni da agricoltori israeliani. Ieri il re della Giordania, Abdullah II, ha annunciato la piena sovranità del suo paese su Bakura e Gomar, due zone prestate a Israele. In Spagna è andata in scena la quarta elezione in quattro anni. Il risultato è una nuova spaccatura nel paese, per cui nessuno riceve i seggi necessari per avere una maggioranza. Occorreranno accordi. I socialisti di Sanchez arrivano primi, mentre i popolari rimangono al secondo posto, recuperando qualche seggio rispetto alle ultime elezioni. Il partito di estrema destra Vox fa il botto e raddoppia i propri seggi. Invece Podemos viene ridimensionato e Ciudadanos crolla. La situazione è tesa. Vedremo quali saranno gli accordi e sulla base di quali programmi. Il Benin ha annunciato una serie di riforme per abbandonare il Franco CFA, Franco delle Colonie Francesi d'Africa. La moneta che tiene in scacco 15 paesi africani, penalizzando le esportazioni e mettendo un freno allo sviluppo economico. Il presidente del Benin, Patrice Stallone, ha dichiarato. Se domani dovremo revocare la misura, ciò avverrà molto rapidamente. La banca centrale dei paesi africani gestirà tutte le sue riserve di valuta estera e le distribuirà alle varie banche centrali partner in tutto il mondo. Il governo del Benin ritirerà la totalità delle riserve monetarie in valuta estera del Franco CFA che sono depositate in Francia. La riforma prevede l'instaurazione di una nuova moneta, l'ECO. Il Benin ha dunque tutte le intenzioni e la volontà di una svolta. Sarà il primo di una serie?